Installata in Villa Comunale a Benevento, una nuova giostra inclusiva, questa mattina il taglio del nastro per la struttura. Si punta a garantire spazi verdi curati e accessibili a tutti, ha spiegato l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa, assicurando percorso destinato a proseguire. L'obiettivo del nostro assessorato era quello di arricchire la nostra città sempre più di spazi verdi curati e di renderli fruibili per quelli che rappresentano la risorsa della nostra città, i bambini. Devono poter giocare e devono poter giocare tutti insieme, ecco perché comprare delle giostre inclusive che dessero la possibilità ai bambini meno fortunati di stare tutti insieme agli altri. E rappresenta il primo tassello del nostro progetto di cercare di arricchire quasi tutti gli spazi della nostra città, bilancio permettendo. Entro fine anno infatti si conta di poter completare anche il nuovo parco. Sicuramente entro fine anno riusciremo a completare il nostro nuovo parco inclusivo, Happy Park, a Via Vittime di Nasseria, dove già abbiamo fatto la posa della prima pietra e tempi di consegna permettendo, entro Natale dovremo essere pronti. Di qui l'appello. Io chiedo a tutti i cittadini di considerarle proprie queste giostre e pensare che ogni giostrina può essere utilizzata da un nostro figlio. Quindi è giusto curarle, manutenerle proprio come se fossero dei fiori.